Com'è questo Canada? Com'è il calcio italiano visto da lì? Allora, qui Paolo Belli vuole sapere se la Juve è competitiva. Visto che Allegri guarda le vostre partite dell'MLS, tu guardi le partite del calcio italiano. E Paolo Belli, secondo me, vuole chiederti se c'è il salto di qualità. Fede, a parte che tu sai che io ti ho sempre stimato per me, sono un calciatore fortissimo e mi è dispiaciuto tantissimo. Tu sei andato via. L'unica cosa che ti posso dire è, siccome lo sto facendo anch'io, studia meglio l'inglese. Vabbè, però l'importante è buttarti nella vita, no? Sì, ma l'altro giorno hai detto, well done, sembrava che tu parlassi al cuoco quando ti cuoce la mischia. Esatto, quando è troppo cuoco. Well, it's very good. Well done. Come on, KFC. Come on, come on.